buongiorno sono bellini paolo sono il titolare di questa piccola azienda diciamo siamo qui in valcamonica dove si respira parecchio legno solo guardandoci intorno quel legno qua mi è entrato anche nella pelle già da quando ero giovanissimo che da bambino mi piaceva girare i boschi l'ho sempre continuato a farlo scegliere fm 3000 per me è stato piuttosto facile perché è un materiale che forse mi sono riconosciuto in se stesso mi sono trovato a avere a che fare con un materiale che apprezzo tantissimo per la sua naturalezza la sua biocompatibilità che ha e la struttura che anche con le persone dalla fm 3000 mi sono trovato mi sono trovato a riconoscermi come persone che danno valore all'uomo non credono molto nelle macchine nella tecnologia ma danno un valore vero di quello che può essere il legno insomma un materiale veramente sincero si può dire grazie 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 grazie